Via libera dal Consiglio dei Ministri alla revisione di IRPEF e IRES nell'ambito della delega fiscale. Sul fronte dell'IRPEF si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare sono esclusi i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni che riguardano il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie. Inoltre, in vista dell'introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, è prevista l'erogazione a gennaio 2025 di un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti, con reddito non superiore a 28 mila euro e con coniuge e almeno un figlio a carico. Per i redditi del lavoro autonomo si introduce come criterio generale di determinazione del reddito il cosiddetto principio di onnicomprensività. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione all'attività e l'ammontare delle spese sostenute per il lavoro. Sul fronte dell'IRES si interviene con la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e la modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.